Benvenuti a questo appuntamento, sono il dottor Massimo Lombardi, oculista in Roma e specialista in omotossicologia bioelettronica, medicina naturale cinese. Vi parlo oggi del cheratocono, questa malattia che colpisce tantissimi giovani ma anche non più giovani e che a volte trovo pazienti anche di 7 anni, come un paziente americano che mi è capitato recentemente, operati di trapianto di corna perché affetti da cheratocono. La malattia è conosciuta dai miei colleghi come una malattia di probabile origine genetica. Di fatto hanno portato alcuni geni che dovrebbero essere responsabili di questa malattia. Cos'è il cheratocono? Il cheratocono è una malattia degenerativa della cornea, quindi la parte della membrana trasparente dell'occhio, che si estroflette sempre di più fino ad assumere un atteggiamento a punta e poi nei casi peggiori si perfora, perché ovviamente vi è stato un assottigliamento dello spessore di questa membrana che è andato sempre più assottigliandosi fino a raggiungere la perforazione. E ovviamente l'indicazione classica di questo tipo di malattia è il trapianto di cornea. Oggi vi sono tanti altri approcci terapeutici, o almeno pseudo terapeutici. Che sono? C'è chi fa il laser ad ecimeri su una cornea che ha una simmetria corneale da cheratocono, c'è chi fa un innesto di un lenticolo di stroma corneale prelevato da un intervento di miopia, perché lo stroma non ha una tipizzazione genetica, quindi può essere utilizzato tranquillamente da un occhio all'altro. Stroma è la parte centrale della cornea, quindi un lenticolo, come una lente a contatto, che viene inserita e all'interno della cornea del paziente e in questo modo si riaumenta lo spessore perso con il cheratocono. È un ottimo approccio, forse il più intelligente. Dopodiché c'è chi mette degli anelli intrastromali, che ovviamente abbassano l'apice della cornea, però questo abbassamento dell'apice è un stretching corneale. Siccome il cheratocono è una malattia da stretching, cioè la cornea si allunga a dismisura, assottigliandosi esattamente proporzionalmente come un elastico che viene tirato, questo stretching provocato da questi anelli intrastromali produce nel tempo, all'inizio un miglioramento visivo, senza altro, dopodiché un lento ma progressivo peggioramento, fino a che il paziente che toglie gli anelli si ritrova con una vista molto peggiore di quella di quando ha messo gli anelli. Quindi gli anelli non risolvono il problema del cheratocono, così come non lo risolve nemmeno quel lenticolo di cui abbiamo parlato, che sicuramente è forse il più intelligente degli approcci. Quello che i miei colleghi hanno tutti trascurato è l'eziopatogenesi del cheratocono, cioè se io ho a che fare una malattia che ritengo genetica so già che non c'è niente da fare perché sul genetico è scritto nel tuo DNA, nel tuo cromosoma e quindi non puoi far nulla contro di esso. Quindi il problema è stato accertarmi all'inizio che fosse veramente una malattia genetica. Troppe cose contrastavano con la teoria della malattia genetica. Dopo sette anni di studi e ricerche, alla fine sono riuscito a capire che non era una malattia genetica, ma bensì una malattia infettiva. Ho dovuto fare studi in tutt'altri campi, sono andato a studiare la geopatologia, la geobiologia, sono andato a studiare i meccanismi di controfrequenza, cioè quegli stessi meccanismi che permettono al pilota in aereo di avere le cuffie che sono sincronizzate sul rumore del motore e vanno in controfrequenza del rumore e quindi il pilota sta in pressoché silenzio all'interno delle cuffie dell'aereo. Ecco, questo principio di fisica viene applicato oggi nella medicina moderna bielettronica per poter cancellare alcuni patogeni, ad esempio, oppure le frequenze, oppure i campi di emissione di energia che permettono poi la presenza di alcune patologie, geopatie, parliamo di quelle famose malattie come i nodi di Hartman, i nodi di Kerry, che poste al sottosuolo di un'abitazione, provocano delle malattie degenerative in chi ci abita sopra, creando un generale stato di immunodeficienza. Per quanto riguarda invece il keratocono, ho dovuto scoprire che l'agente patogeno era invece un fungo, un aspergillo, tant'è vero che per parlare oggi correttamente di keratocono dobbiamo parlare di una malattia cronica da aspergillosi, cioè infettiva. L'aspergillo ha una caratteristica particolare, tanto è lento nel suo procedere all'interno della cornea e cosa fa? Voi deve pensare che la cornea è fatta di collagene, il collagene è una proteina molto diffusa nell'organismo, tendini, articolazioni, pelle, ossa, eccetera, sono piene di collagene, ma anche la cornea è fatta di collagene. Quindi questo tessuto apparentemente molto solido, perché la struttura di collagene è simile al mollone di un ammortizzatore di una macchina, quei molloni cromati che avrete visto nella vostra vita. Bene, questo mollone però ha una caratteristica nella proteina del collagene, ha dei ponti interspira, cioè tra una spira e l'altra ci sono dei ponti che uniscono l'espire fra loro, creando un segmento molto resistente, tant'è vero che in un occhio normale la cornea che viaggia di solito a 14, 16, 18 mm di mercurio di pressione endoculare può arrivare anche a sopportare 70-80 mm di mercurio durante un attacco di glaucoma acuto. Quindi è una proteina estremamente resistente. Cosa fa l'aspergillo su questa proteina? L'aspergillo è specializzato nel tagliare i ponti interspira. Quindi rende questo tessuto estremamente compatto un tessuto estremamente molliccio, friabile, estensibile. Ecco che invece di un mollone ammortizzatore abbiamo un organetto. È sufficiente che il paziente si stropicci gli occhi per allungare la cornea, ovviamente è un C, allargare questa cornea. Adesso vi faccio vedere una rappresentazione più o meno della cornea per farvi capire. Ecco, immaginate questa lente sia una cornea con questa superficie detta torica perché ha questa curvatura su 360 gradi. Bene, essendo la base della cornea un tessuto durissimo, la sclera, quindi inestensibile, la cornea per allungarsi si può solo allungare in senso verticale e quindi in questo modo che noi chiamiamo in geometria il movimento esplosivo della cornea, non che scoppia, ma si espande sui tre assi praticamente. E quindi questa espansione provoca, come ho detto, un assottigliamento. Quindi il collagene diventa così friabile, così malleabile, da poter essere allungato né più né meno come quando facciamo questo gesto di rubbing per gli inglesi, stropicciamento per noi, della cornea, che è una delle peggiori cose da fare quando uno ha anche radocono, noi facciamo altro come quando il pizzaiolo prende il pane di pizza, che è più o meno simile, e lo stende col mattarello. Quindi noi non facciamo altro che strecciare, allungare, spandere su questi tre assi la cornea e assottigliarla proporzionalmente. Quindi per quanto si allunga e si allarga, altrettanto si assottiglia. Il principio dell'elastico. Quindi questo è per farvi capire un po' il meccanismo d'azione. Certamente agisce su questa cornea anche la pressione endoculare, che è stato l'argomento che mi ha tenuto più bloccato per molti anni di questa mia ricerca. Finché ho capito che la pressione endoculare, che è normalmente molto bassa, 14, 16, 18, è vero che è bassa, ma chiamiamo il difetto nei confronti di una cornea di caratocono di pulsare 24 ore su 24 per tutta la vita del soggetto. Quindi questa cornea riceve attraverso la carotide e l'arterio centrale dell'occhio e che va ovviamente a immettere del sangue sincrono con le pulsazioni cardiache, quindi una specie di piccolo colpo di martello. Questa è la cornea e la pressione fa tump, 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 24 ore su 24. E dove va a impattare? Va a impattare nel locus minori resistenza, nel luogo di minor resistenza, che è appunto la parte centro-paracentrale della cornea, che è più sottile della cornea periferica, che è quasi il 50% più spessa di quella centrale. Quindi è una cornea molto spessa. La parte debole è centro-paracentrale. Ed è lì che avviene l'allungamento e l'ectasia progressiva, così si dice in termini corretti, della cornea stessa. Bene, dopo aver capito il meccanismo di azione, quindi l'esistenza del patogeno responsabile di tutto ciò, cosa ho fatto? Ho capito che potevo eliminare il patogeno perché ho capito perché il patogeno si trovava su quegli occhi. Il patogeno andava a infestare gli occhi di chi si trovava in una molto speciale situazione abitativa. Ho pensato pure di chiamarla malattia abitativa, che è una cosa un po' originale. Ma perché? Perché nell'appartamento, nel luogo dove questa persona risiedeva, vi era quella che si chiama una geopatia, geos terra, patos malattia, quindi malattia che viene dalla terra. Questa malattia veniva dal sottosuolo perché sotto quell'appartamento, palazzo, palazzina, può essere anche un attico o superattico, non ha importanza, scorreva un torrente, un ruscello, quello che sia, gli inglesi dicono stream of water, che però scorreva su dei sassi. Cioè il fatto di avere questa azione di frizione tra acqua che corre e sassi, questa frizione genera in fisica radiazioni alfa, beta e gamma. Ovviamente sono radiazioni di bassa intensità che però hanno il difetto di essere presenti 24 ore su 24 anch'esse. Cosa fanno queste radiazioni? Le alfa e beta, per fortuna che sono le più pericolose, si dissipano in pochi metri di terreno, ma le gamma non le ferma nessuno. Per fermare le gamma ci vuole o il sughero, ma ci vorrebbe un'altezza di 15-20 cm di sughero, oppure il piombo, che sono gli elementi che fermano queste radiazioni gamma. Vi ricordate radiazioni gamma sono anche quelle delle flare del sole, che ovviamente hanno ben altra potenza rispetto a quelle di cui parlo io. Ma questa emissione continua di radiazioni gamma sotto l'appartamento e quindi che investono l'appartamento della persona che vive su di esse, provocano intanto una immunodeficienza, perché il paziente viene depauperato del suo patrimonio bioenergetico che ha dalla nascita. È come un capitale in banca, lo puoi spendere, lo tieni lì, a seconda di come lo gestisci ti dura più o meno. Anche il nostro capitale bioenergetico dipende da come noi viviamo, da come noi lo sfruttiamo o lo utilizziamo. Bene, questo capitale bioenergetico viene eroso ogni volta che il soggetto si trova su questo campo biopatogeno o geopatogeno. Quindi dovete sapere che avete visto tutti i film di Star Trek, dove parlava degli schermi energetici, abbassate gli schermi, dell'astronave alzate gli schermi. Bene, anche il corpo umano ha degli schermi energetici che vengono attivati a risveglio del mattino perché durante la notte il corpo umano si deve rifocillare di raggi cosmici che servono per il suo equilibrio bioenergetico e metabolico. Quindi mentre questi raggi cosmici hanno un effetto positivo sul metabolismo del corpo umano, anzi sono fondamentali per l'esistenza dell'uomo, i raggi gamma che vengono dal di sotto invece rappresentano un pericolo costante e continuo. Quindi avendo noi abbassato gli schermi energetici, veniamo intaccati. Cosa fa? L'organismo si vede a difendersi, ma come? Spendendo energia per difendersi. Da questa lotta tra l'organismo che si difende e dispende energia e i gamma che sono continuamente attivi soprattutto per tutto il tempo della notte, si ha un'erosione di questo corpo. Quindi avviene un'immunodeficienza. È tipico di questi pazienti di avere spesso malattie allergiche o altre malattie concomitanti. Bene, ho messo sette anni per capire tutto questo. Io ho avuto la sorpresa che un mio paziente yugoslavo, mentre gli spiegavo queste cose, mi guardava giovane, mi guardava annoiato e scocciato. Scusa Setti, io sto parlando per te. Ma io queste cose le so, dottore, che vuole? Come le sai? Eh sì, a noi Tito ce le insegnava alle elementari. Così ho avuto la gioia di sapere che almeno una cosa buona Tito l'ha fatta. insegnava la geopatia a tutti gli alunni delle elementari, almeno fin quando c'è stato lui al potere. Bene, quindi questo fatto è un fatto scientifico, un fatto di fisica, che conoscono ovviamente gli esperti del settore. Io ho dovuto diventare esperto anche di questo per capire come il fungo potesse agire attaccando la cornea di quell'individuo e non di quello dell'appartamento accanto. perché ovviamente quel corso d'acqua era sotto il suo appartamento e non interessava, si fa per dire, l'appartamento del vicino. Quindi era lui che era in condizioni di monodeficienza e oltretutto quello che ho scoperto è che questo fungo ha una predilezione vitale, essenziale per questo genere di radiazioni. Lui si nutre di queste radiazioni. Anzi, queste radiazioni per lui sono fonte di energia e di forza. Quindi mentre depletano le energie del soggetto che viene attaccato al fungo rinforzano a loro volta queste gamma, rinforzano il fungo stesso che ha capacità di essere più biologicamente attivo. Infatti i casi peggiori sono quelli dove il fungo può essere più virulento, chiamiamolo così, perché si trova su una fonte di radiazione sotterranea più forte, più intensa e il soggetto ovviamente si ammala prima e degenera prima la sua cornea. Capito tutto questo, per fortuna, sette anni, ho potuto cucire il tutto scoprendo che in Italia c'era chi produceva dei quarsi, dei particolari strumenti antigeopatici che quindi si proponevano come per le cuffie del pilota in controfrequenza sulla frequenza della radiazione gamma. Quindi non facevano altro che annullare la presenza di questo campo radiattivo geopatico. Quindi quell'appartamento, l'appartamento che produceva dei danni alla salute diventava un appartamento assolutamente neutro e il fungo non ama questa condizione. Quindi il fungo di fronte a posizionare questo oggetto che viene chiamato geopatic all'interno dell'abitazione di cui abbiamo detto, il fungo se ne va. Ovviamente trattavo e tratta ancora oggi il paziente con quelle che sono le controfrequenze rispetto a quella dell'aspergillo che è appunto la causa della malattia. Bene, con 40 minuti di trattamento di nessun rischio e nessun dolore e nulla 40 minuti il paziente fa questo trattamento di bioelettronica sempre utilizzando le controfrequenze e scompare completamente il fungo che era sulla cornea. Vi è un altro modo per far scomparire il fungo sulla cornea ed è quello di usare i raggi ultravioletti. Ecco perché il crosslinking funziona un po' sulle corne dei keratoconi. Non per la vitamina e per la B2 ma perché è l'irradiazione dei 40 minuti di raggi ultravioletti che sterilizzano completamente la cornea durante il trattamento. ma poi ovviamente il fungo lo riaspetta a casa e quindi prima o poi lo rinfetta eccetera. Ovviamente il paziente affetto da keratocono ha l'opportunità di cambiare casa. Bene, questo è un momento importante della sua vita e ha esattamente tre possibilità. Può andare a stare uguale in un altro appartamento, può andare a stare meglio, c'è un posto dove non ci sono gamma radiazioni, può andare a stare peggio in un posto dove ci sono maggior concentrazione di raggi gamma di maggiore intensità. Quindi queste sono le tre possibilità e questo spiega il meccanismo del keratocono frusto. Se voi andate a fare un'anamnese ai pazienti che hanno dichiarato un keratocono frusto vero, cioè che a un certo punto la patologia si è arrestata, scoprirete che questi hanno cambiato casa. Avendo cambiato casa, sono stati fortunati, gli è capitata la situazione di andare a star meglio e quindi in un posto dove non potevano più essere attaccati dall'aspergillo. L'aspergillo, di fronte a un cessare delle radiazioni gamma, anche se di bassa intensità, smette di riprodursi e quindi è come se si congelasse su quella conna, è sempre pronto a riattivarsi nel caso di si ritrovi nelle stesse condizioni precedenti. E quindi questo mi ha dato la possibilità di eliminare all'origine il problema del keratocono, che è un problema ezio-patogenetico, una malattia infettiva e non una malattia genetica e quindi come tale infettiva è risolvibile, curabile e guaribile. Definitivamente tutti i miei pazienti che hanno fatto il trattamento completo sono tutti guariti dal keratocono. Io ho avuto solo tre telefonate nei 25-30 anni da quando applico questa terapia. Tre persone che scioccamente avevano lasciato il Geopatik nell'appartamento precedente ed erano andati in un appartamento dove c'era la stessa o peggiore situazione di radiazioni gamma. Tutti e tre, dopo aver ricevuto un mio, diciamo così, averli sgridati adeguatamente, ricordandogli quell'ora dedicata a loro per spiegargli esattamente tutto il meccanismo, hanno ripreso il Geopatik, hanno fatto le controfrequenze di nuovo da me e sono riguariti nuovamente raccontandomi, dopo circa 10-12 giorni, dottore, per dirle, guardi, è andato tutto a posto, sono tornato come prima, sto bene, sto benissimo, non ho più bisogno di niente. Non li ho più toccati perché ovviamente per risistemare diciamo le deformazioni che la cornea subisce sotto l'effetto della malattia del keratocono io ho ideato un intervento nel 1984 e ho operato circa 7.000 pazienti fino ad oggi, la maggior parte due occhi, quindi fatevi un conto, con un intervento dove la keratotomia radiale, cioè quella tecnica a mano libera dell'uso del bisturi che poi è diventato un bisturi di diamante, permette con delle microincisioni a raggera di appiattire la cornea. Veniva usata prima del laser per la miopia, quindi una cornea di questo tipo con l'effetto implosivo delle microincisioni si abbassava in questo modo ed è esattamente quello che serviva pure al keratocono con la differenza che questa tecnica è stata applicata in modo non più simmetrico, quindi per 360 gradi con la miopia, ma asimmetrico, cioè proprio lì dove c'è lo sfondamento, l'ectasia, anche spesso solo parziale della cornea, io lì vado ad applicare questo mio intervento di mini ARK, quindi mini keratomia radiale asimmetrica e ho aggiunto oggi la S che è selettiva perché va solo a interessare il punto dove la cornea è stata rovinata dall'allungamento dovuto al keratocono. Il resto della cornea resta intatta. Bene, tutti i miei pazienti sono rimasti chi più, chi leggermente meno soddisfatti, ma la domanda è se vorresti tornare indietro, la risposta è stata assolutamente no. Quindi c'era chi avrebbe voluto avere un risultato maggiore e questo riguarda il 3% dei casi. Il 97% è perfettamente felice. Ovviamente questo 3% sono quei casi talmente avanzati, talmente limite, per i quali il paziente avrebbe potuto anche optare per il trapianto di cornea. E invece mi ha detto, dottore, se lo posso fare anche dopo, intanto provo la sua tecnica, che ovviamente non è a rischio perché non avrò mai problemi di rigetto, la mia cornea me la ristruttura, se mi funziona abbastanza bene me la tengo, altrimenti va benissimo. Nessuno di questi ha mai fatto il trapianto di cornea. Quindi questo è per farvi capire che una volta fatto questo intervento tutti, bene o male, sono rimasti soddisfatti. Infatti sono pazienti che mi portano a loro volta, altri amici, pazienti e conoscenti, da circa dal 1984 ad oggi. C'è da dire che nessuno di questi pazienti che ha adottato il Geopatik e le controfrequenze su se stesso ha mai avuto figli e tantomeno nipoti, perché siamo arrivati anche alla terza generazione, tantomeno nipoti affetti da Keratocono. Quindi è stato dimostrato in modo assoluto che questa è una malattia di tipo infettivo di cui ho scoperto il responsabile, come eliminarlo e le cause che hanno portato a questa malattia. Io ho pure scoperto, ringraziando Dio, una tecnica chirurgica che è l'unica al mondo che ha un effetto implosivo sulla cornea e che è in grado di ricompattare la cornea. Che vuol dire? Che la cornea perde spessore per questo effetto di cui abbiamo parlato, detto esplosivo in modo geometrico. Si dice figura esplosa, esplosivo. Bene, i miei pazienti hanno questo effetto, si ha una rinvaginazione delle lamelle del collagene corneale degli strati e la cornea dei miei pazienti riacquista lo spessore perso durante la malattia. Abbiamo casi che superano di 50-80 micron lo spessore normale della cornea. Vanno a finire anche a 580 micron. Pazienti che avevano 420-440 micron. Quindi questo per farvi capire che è l'unico intervento al mondo che ha questa capacità. O si fa un trapianto di cornea anche lamellare o per poter avere più spessore corneale senza aver toccato la cornea aggiungendo nulla è l'intervento del dottor Lombardi. Tornando all'intervento che ho detto intelligente, quello di mettere uno strato di stroma corneale all'interno della cornea del soggetto affetto da geratocono, c'è da dire una cosa, che quello è sicuramente, forse è la tecnica più valida in alternativa alla mia, però è una tecnica che non risolve. Il primum movens, cioè la natura del problema biomeccanico che è quello dell'elongazione, dello stretching del collagene sotto affetto del patogeno. Quindi mentre è una buona tamponatura della situazione, quindi permette al paziente sicuramente di ricoperare un po' e di tirare avanti, non ha però la soluzione definitiva che io posso offrire con la mia tecnica completa che parte dalla microchirurgia per ripristinare una curvatura refrattivamente utile della cornea. Il 75% dei pazienti ameoperati girano senza occhiali e ci vedono perfettamente. E soprattutto il 100% non ha più progressione della malattia attraverso le terapie da me praticate contro l'aspergillo e contro la geopatia. Grazie. Grazie.